pensi che i giochi siano finiti qui ma guarda questa data questa data questa zona temporale che oggi andremo a guardare che riguarda la fine dell'anno per quanto riguarda bitcoin guarda dove siamo arrivati con bitcoin in questo momento terzo touch di un livello di resistenza stra importante ma sopra questo livello di resistenza è boom perché non ci è niente che fermi bitcoin fino a un certo punto proprio al di sopra di questo livello di resistenza e quindi dove può arrivare cosa può succedere qual è una view differente che vi avevo promesso negli scorsi video che avremmo trattato avremmo parlato per quanto riguarda il mercato delle criptovalute la facciamo oggi analisi ciclica analisi tecnica news del mercato delle cripto questo movimento attuale di rialzo di bitcoin può continuare c'è una ipotesi che può spiegare questa cosa anche a livello di analisi ciclica assolutamente sì me ne avevo già parlato e la vediamo in questo video e ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi e oggi facciamo un super video di analisi veramente importantissimo quindi mi raccomando occhi buttati sul grafico se non siete ancora iscritti al canale cliccate sul tasto iscriviti e distruggete il tasto mi piace per questo video allora ragazzi voglio partire direttamente con questo spiegazione di questa ipotesi ciclica ma prima solo un leggerissimo briefing per quanto riguarda le notizie di questa settimana che ce ne sono alcune importanti e poi solo un grafico relativo all'analisi macroeconomica che vi faccio vedere tra poco qual è la notizia della settimana in particolar modo cioè il discorso di pago nella giornata di mercoledì 25 che potrebbe dire qualcosa ma è orario molto tardo per quanto riguarda l'italia 22 e 35 poi la giornata interessante è quella del giovedì dove verranno pubblicati i dati relativi al PIL del terzo trimestre atteso in importante risalita per quanto riguarda i Stati Uniti ancora PIL fortissimo per quanto riguarda invece poi l'Europa decisioni del tasso di interesse che anticiperà probabilmente quella che vedremo anche relativa alla Federal Reserve Americana nella prossima settimana infatti l'altro grafico che volevo vedere farvi vedere è questo qui ragazzi allora Europa che probabilmente manterrà i tassi stabili 4,50 Federal Reserve che manterrà i tassi probabilmente stabili appunto nel PONC che avremo fra nove giorni a novembre era un po' nell'aria questa cosa ma volevo farvi anche capire che qui inizia a circolare anche il cluster del taglio dei tassi di interesse un cluster bello importante e vederlo diciamo da un punto di vista grafico prima vedevamo soltanto il mantenimento e il rialzo dei tassi adesso abbiamo mantenimento ribasso dei tassi e vediamo se si manterrà questa cosa ovviamente per il prossimo PONC e anche per quanto riguarda l'Europa no a ribasso di tassi per quanto riguarda questa prossima riunione poi si sposterà tutto probabilmente verso fine anno inizio del prossimo anno allora detto questo partiamo subito dal grafico che mi premeva farvi vedere terzo touch del livello di resistenza del 2023 per quanto riguarda il re delle criptovalute fortissimo in questa fase non eccessivamente forte perché ancora siamo nella struttura cammello del mercato e il problema è qui a questo punto comprendere ce la fa a rompere questo livello di resistenza sì o no cosa succede se bitcoin riesce a breccare il livello di resistenza dei 31.500 dollari circa perché ha bisogno di slancio ragazzi e deve farlo almeno in close daily ve lo dico in maniera chiara almeno a chiusura della candela giornaliera ma sarebbe anche preferibile alla conferma averla a chiusura settimanale c'è da dire che a livello operativo scordatevi di operare attendendo la chiusura della candela settimanale perché nel mercato delle criptovalute dovete essere estremamente più veloci in realtà anche le posizioni di trading speculative per fare questo trend per trattare questo trend che abbiamo visto dovevano essere già open e c'erano diversi indicatori che potevano darci ovviamente questa possibilità allora siamo al touch che era il pullback di un livello anzi pull up di un livello di supporto che era quello che aveva dato spazio all'inizio del ciclo del bear market delle criptovalute questo livello è stato attualmente trasformato in un livello di resistenza che è importantissimo proprio perché è stato l'inizio di un nuovo ciclo annuale è quello del bear market ora questo livello di resistenza ha come si fa a comprendere se sta diminuendo la sua efficacia ragazzi nel mio corso basic 2.0 ho trattato una lezione dove spiego proprio che i livelli di supporto e di resistenza hanno una validità fino a un certo punto man mano che esistono diciamo alcuni presupposti perdono perdono efficacia questo è il discorso questo attuale livello ancora non ha perso efficacia secondo quei parametri che spiego appunto nel corso ragazzi però siamo vicini diciamo che il terzo touch di un livello di resistenza è già un primo tassello di perdita di efficacia di questo livello di resistenza perché il terzo touch diventa appunto lo indebolisce diciamo così c'è una serie di altre cose da andare a guardare in questo caso soltanto il touch il terzo touch è il parametro che ci dice che si sta indebolendo gli altri parametri invece non ci dicono questo però volendo ragazzi dovremmo iniziare anche a ragionare sul fatto che questo livello di resistenza un po' no sta scricchiolando immaginate quelle che sono le i film no andate sulle serie netflix dove avete in pratica quei muri che a un certo punto li stanno distruggendo iniziano a fare le crepe i vetri che iniziano a fare le crepe il concetto è quello cioè non è rotto però inizia a scricchiolare no c'è un tassello ma attendete anche un attimo perché vi faccio vedere poi tra l'altro non solo questo grafico ma quello che è importantissimo che è questo qui un spoilerone perché questo grafico è quello che ci ha dato il minimo del ciclo annuale di novembre e sta facendo un altro giochino che è molto importante ci dà un'altra informazione che è molto importante per sostenere appunto questa tesi allora se questo scricchiolio di analisi tecnica dovesse essere confermato ragazzi lo vedremo tra pochi giorni secondo me e soprattutto indicherebbe che questa zona che io avevo già cerchiato come max 1 e se qualcuno di voi ha visto questo grafico e che l'ho mostrato diverse volte magari ha fatto uno screenshot nei miei video trova quel max 1 e max 2 che sono delle indicazioni temporali dei possibili non ve ne parlo ragazzi perché le probabilità le possibilità degli scenari sono molteplici quindi fin tanto che il mercato non prende una strada indicandone una probabilità adeguata inutile parlarne ci confondiamo e basta no questo è ovvio però questo max 1 era già nell'aria ed era già sotto contratto discografico da parte mia da un po' di mesi ed è dicembre 2023 ragazzi allora dicembre 2023 in questo caso passerebbe dall'essere una zona di minimo addirittura una zona di massimo questa cosa è coerentissima con la teoria dell'analisi ciclica perché la teoria dell'analisi ciclica ci dà sempre due strade quindi attenzione anche qui ragazzi quando studiate questa materia ricordatevi sempre che state studiando un'analisi temporale non operativa a livello tecnico per operare bisogna usare l'analisi tecnica ma la ciclica vi dà una fascia temporale ma ha sempre anche la ciclica due ipotesi possibili sempre ragazzi e questo è un sempre categorico va bene non è una cosa che potete avere una conferma certa seguendo quelle analisi quindi se avete una conferma certa c'è qualcosa che non va non la state applicando nel modo corretto ricordatevi sempre questa cosa dicembre 2023 la probabilità che bitcoin vada a fare un minimo a dicembre e a chiudere l'annuale resta sempre valida perché il ciclo annuale in questo caso per chi è appena arrivato diciamo sul canale ragazzi dura intorno a circa 400 giorni per quanto riguarda bitcoin ciclo insomma un anno classico più le sabati e domeniche niente di più e teoricamente sono 385 giorni dall'ultimo minimo a dicembre quindi se poi si va ad allungare a febbraio diventano 455 quindi se il ciclo è un po' corto è un po' lungo questa zona teoricamente è una zona di chiusura del ciclo annuale se quindi qui siamo nell'ottica di avere un ciclo annuale standard dovremmo vedere una cosa del genere va bene questo è concettualmente l'ipotesi che resta ancora valida e che insomma stiamo seguendo teoricamente moltissimi stanno seguendo queste ipotesi anche gli analisti ciclici da tanto tempo però non esiste solo queste ipotesi motivo per il quale questo trend andava tradato long insomma io in academy questa analisi ovviamente ragazzi l'ho pubblicata settimane fa quindi questo giusto per essere coerenti allora questa zona qui infatti può avere un'altra ipotesi ciclica e cioè quella di creare una struttura a ciclo di natura ternaria una struttura a ciclo di natura ternaria si crea in questo modo ragazzi e in questo modo qui adesso non mi fa andare più su vabbè faccio finta che questa sia una struttura ternaria i tempi non sono corretti però va bene lo stesso per farvi capire se questa struttura ciclica si crea in forma ternaria la zona dicembre-febbraio del 2023-2024 diventa una zona di massimo non di minimo e questa è la concettualmente la questione che anche la ciclica ha sempre una doppia ipotesi no? a una parte può indicarci una strada all'altra un'altra ovviamente altrimenti saremmo lì con un banco matto in mano non è così allora l'ipotesi ternaria è in atto ragazzi cioè è valida ed esiste e qual è concettualmente quella che bitcoin abbia iniziato in questa fase del nuovo ciclo dell'annuale non un annuale standard da 400 giorni bensì un biannuale quindi due cicli annuali messi insieme da tre strutture di annuali corti lo so e le ternarie sono un po' più complesse e vi dovete fidare vi dovete fidare vi dovete fidare quindi una cosa del genere ora io ve l'ho fatta un po' più chiara per farvi capire dove andiamo a chiudere qui siamo ad aprile-luglio 2025 per questa struttura quindi c'è tanta carne al fuoco ma questa idea porta in questo punto in questa zona temporale ad avere un hype di bitcoin quindi una parte up di bitcoin non un minimo e quindi teoricamente il minimo di chiusura dell'annuale corto sarebbe stato qui in questa zona e non da fare a dicembre in questa zona qui quindi queste sono le due ipotesi quelle che ho già spiegato settimane o sono quasi un mesetto fa in Academy che stiamo seguendo anche lì noi stessi in effetti questo concetto esiste già da un po' anche perché storicamente bitcoin ha già fatto questo tipo di ciclo annuale ternario quindi unendo due strutture annuali e creandole a mo' di una micella spaziale perché lo ha già fatto nei cicli potenti quelli forti quelli del 2017 ora che questa cosa sia vera o meno noi non la possiamo sapere fino a quando il mercato non ci dà dei segnali vediamo questi segnali quali sono però intanto vi ho spiegato che questa ipotesi è in atto esiste sono due le ipotesi quindi tutte e due sono una il contrario dell'altra questo a livello operativo non crea nessuna difficoltà attenzione a quelli che si alzano la mattina ah ora sale ora scende non capite una mazza come si suol dire di analisi tecnica la battuta è strasimpatica e quindi ve la concedo che è sempre bella in effetti è proprio così però attenzione a pensare che state dicendo cose che siano realistiche perché è sbagliato ragionare così comprendendo quelli che sono gli scenari a livello operativo si riesce a operare in maniera molto semplice e quindi vi faccio l'esempio molto pratico questo trend andava trattato long perché essendoci l'ipotesi ternaria potrebbe essere quella quindi io mi posiziono long su questo trend di bitcoin se bitcoin mi dà il trend giusto io ci sto dentro se mi lo dà sbagliato o faccio poco profitto o esco in piccola perdita tutto qui cioè non è una problematica gestire due ipotesi è facilissimo gestire due ipotesi è sapere quello che sta succedendo che è difficile ragazzi perché sapere quello che sta succedendo vi apre la mente vi apre la finestra voi guardate il panorama e guardando il panorama dice vado lì vado lì ma sapete già la strada siete avanti essere avanti nel settore investing e trading è la cosa principale quella che vi fa sostanzialmente vincere quindi se questo trend può darmi spazio all'ipotesi ternaria che vi dicevo io qui su questo trend lo trado non vado a fare short a ogni pump di questo trend perché? perché è un po' pericolosetto ovviamente c'è l'altra ipotesi in atto fermo restando che anche chi ha fatto short con consapevolezza quindi ha le tecniche di trading è corretto anche quello però quello è una cosa per professionisti va bene quindi io qui non la tratto ragazzi che è un discorso differente perché poi se avete dei trading plan e siete progettati per fare delle operazioni ogni cosa che fate è corretta a prescindere dall'esito del risultato dell'operazione è un discorso da trader da professionisti questo è diverso rispetto a quello che stiamo dicendo qui però tendenzialmente questa ipotesi è un'ipotesi che dobbiamo valutare quando il mercato può darci questi risultati al break di questo livello noi avremo un primo tassello evidentissimo e poi ci sono tanti piccole briciolette di pane di cui una ve la mostro adesso poi l'altra magari la vediamo con calma ve la mostro in questo video che ci dicono che quella ipotesi non è poi così tanto remota e non è così tanto un'invenzione allora il breakout dei 30 31.500 questa zona qui indicherebbe che bitcoin va direttamente a toccare i 35 perché poi non ci sono altre zone altri segnali al di sopra di questa fascia qui dopodiché sopra i 35 e qualcosa ci stanno i 42k ora qualcuno mi ricordo Messi Orsono mi diceva nei commenti Mauro dicembre la 42k allora io chi era che mi scriveva questa cosa per favore scrivetemelo di nuovo nei commenti di questo video perché se andiamo lì bisogna che vi prendiate i plausi di questa scelta che avevate fatto e quindi è giusto così chi era il fautore da febbraio marzo me li ricordo questi commenti dicembre 42k scrivetemi nei commenti qualcuno in testa già ce l'ho perché non so chi è e quindi vabbè se succede una cosa del genere plausi a questi analisti insomma che hanno fatto veramente il modo corretto però sostanzialmente questa è un primo tassello perché non vi dico è l'unico tassello non è l'unico tassello ragazzi perché c'è anche la possibilità e qui poi entriamo nelle difficoltà vere del trading che il mercato faccia un massimo a brevissimo a novembre e poi comunque vada a chiudere il ciclo annuale in questo modo qui allora questa ipotesi qui ragazzi ci dice che teoricamente la scena che la chiusura annuale potrebbe avvenire sempre nella prima ipotesi è comunque valida anche al breakout dei 30.000 non cambia cambia dopo quindi noi il concetto se andiamo nella versione a ciclo ternario o ciclo biannuale ternario o ad annuale semplice classico lo abbiamo lo avremo solo questa risposta solo dopo il break di questa resistenza quindi se non lo fa siamo nell'ipotesi 1 certamente e questo non c'è dubbio ma se brecca questo livello di resistenza abbiamo aperte ancora l'ipotesi 1 e anche l'ipotesi 2 però cosa cambia che l'ipotesi 1 è leggermente meno acuita nella fase di bassista quindi tendenzialmente una roba del genere ok mi può far chiudere un annuale anche semplicemente con un pullback della resistenza perché questa resistenza difficilmente non verrà pullbackata diciamo così quindi non sarà tornadino non torniamo indietro però ovviamente questo livello di pullback potrebbe essere blando quindi anche lì l'eventuale livello di chiusura annuale potrebbe essere molto più alto dando spazio molto di più ai mesi successivi però quindi una volta diciamo se questa resistenza dovesse essere breccata poi ragioniamo anche su le probabilità come si spostano difficile al mio avviso e se andiamo a breccare questo 35 e 8 circa andiamo a 42 considerare poi da qui che va a chiudere un annuale leggero in pochissimo tempo cioè sostanzialmente se il mercato poi continuerà a salire oltre novembre magari anche fino a fine novembre primi dicembre difficile dal mio punto di vista che siamo nell'ipotesi 1 quindi lì la probabilità lago della bilancia si va a spostare man mano verso l'ipotesi 2 ma non cambia a livello operativo perché vi dicevo essendo già operativamente long c'è poco da fare quindi lo so ragazzi dovete imparare la tecnica per operare su queste cose e su questi trend che si può fare la scommessa la scommessa è un discorso che ovviamente riguarda chi magari ha ancora poche esperienze e giustamente vuole operare in questo modo chi magari vuole avere un po' le carte in tavolo e comprendere le cose potrebbe tranquillamente andare a ragionare imparando due o tre tecniche un mini corso un mini libro ragazzi e lì siete riusciti già a capire queste cose allora questa è l'idea di fondo vi faccio vedere il grafico che ve lo dicevo all'inizio che è spettacolare il grafico dello spread del rapporto bitcoin nasdaq 100 ragazzi è il grafico che ci ha indicato in maniera chiara che qui era iniziato il ciclo annuale a novembre quando avevamo dubbi anche sul ciclo annuale attenzione perché qui a 294 giorni ha fatto una struttura anche lui strana quindi ha chiuso una struttura ciclica ora se fosse un annuale normale come tutti dovremmo andare intorno ai 400 è qualcosa e quindi chiudere nei primi mesi del 2024 qui le ipotesi sono un po' più difficili l'ipotesi 2 di una struttura ternaile è ancora più difficile ma abbiamo dei dati statistici e dei dati tecnici da andare a verificare cioè intanto non guardate i prezzi perché è uno spread ci interessa solo la forma grafica se dovesse già superare questa fase questo livello e portarsi qui su allora questa indicazione probabilmente sarebbe già indicativa del fatto che qui è iniziata un'altra struttura che difficilmente ragazzi è una struttura da 80-90 giorni ma probabilmente sarà un altro 300 giorni e se noi qui andiamo a inserire un altro 300 giorni in questa zona ce ne andiamo appunto a luglio 2024 e guardate un po' come la forma ternaria si sta andando si andrebbe a delineare diciamo in questo modo cioè se qui questo grafico continua a salire e addirittura sale sopra questo livello probabilmente stiamo andando a costruire questo livello qui e attenzione che il prossimo anno questa cosa potrebbe essere ampiamente possibile dovuto al fatto anche che difficilmente i mercati classici il prossimo anno potranno fare pump importanti perché la BCE non lo vuole e neanche la Federal Reserve questo significa anche che devono essere contenuti quindi è probabile che se Bitcoin galoppi a rialzo lo faccia da solo e quindi questo essendo un grafico che mette il rapporto Bitcoin con Asdaq indicherebbe a quel punto che sostanzialmente questa view potrebbe essere possibile allora qui andiamo a monitorare questa zona se nei prossimi giorni in questa zona viene meno e il mercato riesce a breccarla ovviamente occhi aperti perché un altro indicatore che l'ipotesi ternaria potrebbe essere validata cosa ne pensate video boom secondo me ragazzi ok video estremamente importante fatemelo sapere nei commenti mi piace sempre con i pollicioni noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao